Musica Buonasera amici e bentrovati ad Alimenti Ferma Tempo la nostra trasmissione che parla appunto di preparati alimentari con me è Giampaolo Tocco Dalle Onde Buonasera Giampaolo Ben ritrovata Dunque torniamo a parlare in particolare di due preparati alimentari che ormai molti telespettatori che ci seguono da tempo già conoscono che sono il mirtillo rosso palustre selvaggio del nord del Canada e la curcumina Prima però di addentrarci appunto in quelli che sono i benefici che da l'assunzione appunto di questi due preparati alimentari vorrei che lei ci spiegasse esattamente che cosa sono gli integratori che cosa sono invece i preparati alimentari quali sono le verità e quali invece le bugie che spesso ci vengono raccontate Naturalmente ho un paio d'ore a disposizione Non esattamente Ecco bene Allora Come il solito la domanda è stimolante Di grandissimo interesse Giusto? Ci sono le bugie Ci sono le verità Allora L'integratore E ci tengo a ribadire questo concetto Sempre Repetita Juvent Più lo ripetiamo Secondo me Meglio è L'integratore è assunto con troppa leggerezza L'integratore è in libera vendita Quindi non richiede prescrizione medica Ma è un integratore Le parole Hanno un peso Sono dei maccigni Sono delle pietre Integratore Integra Per integrare Io devo avere una mancanza La mancanza secondo me la deve stabilire il medico O un'indagine clinica Un esame Io non posso di testa mia Autoprescrivermi E automedicarmi Supponendo che mi manchi del ferro O della vitamina B O della vitamina C Ci deve essere qualcuno Che esamina Che controlla Che vede Che misura nel mio organismo Quali sono le carenze E mi prescrive Un integratore Eppure Gian Paolo L'offerta di questi integratori È molto ampia Non solo nelle farmacie Ma addirittura nei supermercati Ovunque La richiesta Vedi il mercato funziona così Quando parlo di etica Io Che mi sento fin da bambino Un amorale Senza morale Perché per me la morale è la coscienza La coscienza Sai L'essere umano L'essere umano sa Che cosa è bene Che cosa è male L'essere umano sa Che cosa è giusto E che cosa è ingiusto Ma nonostante io Sia contrario I moralismi Sull'etica Non transigo Il mercato richiede E il produttore Offre Tu chiedi cose inutili E io te le offro Perché tutto purtroppo Si basa Sul fatturato Sul denaro Chiaro Tutti abbiamo bisogno La mia azienda Ha bisogno di denaro Se no cade Crolla Chiedo ai miei assistiti I miei clienti Vi descrivo Un mio prodotto Ve lo racconto Se ritenete Di averne bisogno Che vi possa essere utile Lo comperate Perché portate soldi In un'azienda Che senza soldi fallirebbe Ma da questo A raccontare bugie O a illudere O a creare Bisogni che non ci sono C'è un oceano Ecco l'etica L'integratore Ormai oggi Riempie farmacie Scaffali dei supermercati Internet Da tutto il mondo Ti offrono Integratori Di vari tipi Io farei tre tipologie Di integratori L'integratore per palestra Quello che mi porta dentro Gli aminoacidi Le proteine O i carboidrati Per l'energia Per lo sviluppo muscolare Ed è la palestra Poi c'è l'integratore Che Erroneamente è detto integratore Chiamiamolo rimedio naturale Che è a base Di alcune sostanze Di alcune sostanze Sono poche E certe Il basilico tulsi L'artiglio del diavolo L'acido ialuronico Che hanno Un indirizzo Una destinazione D'uso Specifica Ho il dolore Devo utilizzare Delle erbe Antidolorifiche Ho un'infiammazione Utilizzo dei preparati Erboristici Antinfiammatori Poi c'è il terzo troncone Che è quello che fa 3 miliardi e mezzo Di fatturato Che è quello Che integra Le carenze Ecco Lì si gioca Troppo Noi produciamo Integratori Raramente me ne ha sentito Parlare Perché L'integratore Che noi produciamo Bene Lo destiniamo Preferibilmente Allo specialista Al medico Dicendo al medico Noi facciamo Questo 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 E questo Che va ad integrare Carenze Che tu devi stabilire Quindi io non dirò mai Ad un mio assistito Usa i nostri integratori A base di vitamine Perché non so Di che vitamine È carente Questa è l'etica Io non posso dare Un fantastico Preparato alimentare Per L'assimilazione Del ferro Perché rischio La sideremia E rischio L'esagerazione Di ferro In circolo Quando uno È carente di ferro Non è detto Che abbia poco ferro Magari Assorbe Poco ferro Ma ne ha molto Nell'organismo Con quale Onestà Con quale Criterio Io vado a consigliare Un'integrazione Di vitamine Di minerali Di Proteine Se non so Esattamente La carenza Quindi Occhio L'integratore È una cosa Importante Efficace Seria Ma richiede Un Secondo me Un parere Del medico Non una prescrizione Perché non sono prescrivibili Un parere Del medico Che abbia Che mi Determini Tramite Una carenza E mi prescrive L'integratore Che va A coprire Che va A colmare Questa carenza Noi siamo Noi siamo Nella nostra Comunicazione Sul pubblico Per la L'utilizzo Quotidiano Di alimenti Di cui Abbiamo bisogno Noi abbiamo bisogno Di proteine E ce l'ho Con l'alimentazione Ceci Fagioli Eccetera Eccetera Ne ho centinaia Ho bisogno Di vitamine Ho bisogno Di minerali Ho bisogno Di antiossidanti Antiossidanti Ma non In misura Esagerata Una volta Ogni tanto Io credo Che Le persone Le Le A casa nostra Noi non puliamo Ogni sei mesi La casa Noi una spolveratina Dobbiamo darla Tutti i giorni Le finestre Le devo aprire Tutti i giorni Perché Aprendo Un quarto d'ora La finestra Anche quando fa freddo Adesso Fa freddo Verrà la neve Tutto quello che vuoi Ma in un quarto d'ora Io ho sanificato La stanza Non c'è più un batterio Non c'è più un virus Ma non posso dire Per tre mesi Le tengo chiuse E poi le tengo un mese aperte Non serve a niente Ecco dove La mia convinzione Che oggi ci sta premiando E sta trovando Conferme Scientifiche Mi porta A dire alle persone Alimentatevi bene Perché la giusta Corretta alimentazione Ricca Della giusta quantità Quotidiana Di antiossidanti Si è dimostrata Fantastica Efficacissima Nel prevenire Patologie Nel prevenire Malesseri Malanni E quindi Nel ridurre in maniera Trastica Il dover ricorrere Al medico O al farmaco O all'integratore stesso Ecco da qui Allora Gian Paolo L'importanza Appunto Della comunicazione Perché È abbastanza Normale Incontrare persone Che acquistano Indistintamente Integratori Così Perché magari Quel giorno Hanno trovato Interessante Un'offerta Per esempio Di vitamine B Esatto Esatto Raramente Allora La televisione È uno La radio Il giornale È uno La piazza È un Sono strumenti Straordinari Che mettono Che danno Strumenti Che danno La possibilità A Un essere umano Di comunicare Con altri esseri umani Io posso comunicare Le mie emozioni Posso comunicare I miei pensieri Posso comunicare Un mio disagio Una mia arrabbiatura E posso usare La comunicazione Per condizionare Le persone La pubblicità È l'anima del commercio Ma richiede etica La pubblicità Condiziona le persone Io non voglio Condizionare le persone Io voglio informarle E guardi Mi trovo benissimo Da 45 anni Che faccio Questo lavoro Io ho visto Che informare In maniera Corretta E inconfutabile Senza bugie Le persone Le persone Ti premiano È inutile Creare Bisogni Che non esistono Per vendere Robbe che non servono Tanto vale Informare Le persone Su ciò Che io ritengo Giusto O sbagliato Naturalmente Quando lo ritengo Giusto E lo comunico È perché C'è una base Scientifica Che lo conferma Dico le cose Come stanno Offro una soluzione Ti informo A questo punto Decidi Se lo fai o non lo fai Io sento pubblicità Senza fare Nomi di marchi Ovviamente In cui Questa dice Mi sono pulito i denti Il mio dentista Ha detto che non va bene Il tuo dentista Ha detto a te Che non va bene Stai dicendo una verità Cioè che il tuo dentista Ti ha detto Che pulirli In quel modo I denti Non va bene È vero Ma mi stai dicendo Una bugia Cioè Con questa frase Insinui Nella mia mente L'idea Che per pulire i denti Bisogna usare Quel prodotto Non è vero Mi hai Imbrogliato Mi hai Turnupinato Io sono Per la chiarezza Sono per la chiarezza Devi Informare Le persone Sullo stato Delle cose La scienza Noi sentiamo frasi In pubblicità Evocative Che non vogliono dire niente Ma che convincono le persone Che imbrogliano le persone Fanno pensare Alle persone Cose che non esistono Quando io propongo Una sostanza Come alimentare Quotidiano La propongo Per nostri Studi interni Per conferme Conferme Non test Conferme Scientifiche La scienza Conferma Che il cranberry È un Disintossicante Punto La scienza Conferma Che il cranberry Selvatico È un Depurativo C'è poco Da discutere Certo Quindi quando lei Fa queste affermazioni Sta facendo informazione Perché diceva che c'è Sia la pubblicità Che l'informazione Sono due tipi diversi Di comunicazione Che hanno delle differenze Consistenti Una informa Una condiziona Quante volte sentiamo Nelle vendite Guardi Report Ha fatto una trasmissione Che pensavo Li fucilassero sul posto Chiudessero La trasmissione Quella sera Quando ha parlato Di una Immensa azienda Che produce Integratori E hanno dimostrato Che statistiche Comunicazione Studi scientifici Pubblicazioni Erano costruiti In maniera tale Da non dire bugie Ma da Confondere Le idee Delle persone Hanno dimostrato L'inefficacia Di quel prodotto La risposta Dell'azienda Sa qual è stata? Prendere Il più importante Dei presentatori E il più amato E fargli fare A Raffica Pubblicità In televisione Radio Eccetera Di questo integratore Dicendo Io lo assumo E mi trovo bene E questo integratore Ha È supportato Allora Scientificamente Testato Esatto Lo sentiamo spesso Nella pubblicità Cosa vuol dire? Scientificamente Testato Scientificamente Testato Cosa vuol dire? Che è stato testato In maniera scientifica Dammi anche il risultato Non puoi dirmi Non puoi dirmi Questo orologio È stato Scientificamente Controllato E Funziona o non funziona? No, non funziona Ma è stato Scientificamente Testato È un imbroglio E invece per quanto riguarda Il mirtillo rosso Scientificamente Testato? No Scientificamente Comprovato Allora Sul mirtillo rosso Canadese Palustre Selvaggio Ci sono migliaia di studi Non vuol dire niente Neanche quello Migliaia di studi Potrebbero essere Che questi migliaia di studi Hanno determinato Che non serve a niente Non ti posso imbrogliare Dicendo È scientificamente Testato Io ti devo informare Dicendoti la verità Sono stati fatti Migliaia di studi Dai quali è emerso Due punti Depura L'organismo Disintossica L'organismo Ringiovanisce La parete interna Delle arterie Ridà tono Alle vene Ridare tono Alle vene Non è una robetta Ridare tono Alle vene Vuol dire Che la vena Riacquisisce Quella capacità Di tono Di elasticità Tale Da rimandare Il sangue Verso il cuore Quindi Le mani gonfie Le gambe gonfie I piedi gonfie L'ottundimento La capacità Del mio organismo Di rimandare Verso il cuore Quel sangue Stracarico Di tossine E di scorie Affinché il cuore Lo mandi Ai polmoni Nella piccola circolazione Per ossigenarsi Al fegato Per depurarsi Riaprire Ridare tono Alle vene È un dato scientifico Inconfutabile Ringiovanire La parete interna Delle arterie Guardi Non se ne parla Quasi mai Non è un tubo L'arteria La parete interna Non è una roba fisica Attraverso la quale Passa il sangue È costellata Da milioni Di sensori Ma pensi La meraviglia Del nostro organismo Dentro il tubo Che è l'arteria Ci sono sensori Che leggono il sangue Che fanno un'analisi Del sangue Che trasmettono i dati Al cervello Il quale dice Oh È carente di Attivo questa ghiandola Oh C'è troppo zucchero Attivo il pancreas Le isole di Langra Oh Manca cortisone Attivo il surrene Un miracolo E la natura Ti dà una bacca Che scientificamente Non testato Scientificamente È provato Ringiovanisce le arterie Ringiovanisce il cuore Ringiovanisce Riapre i capillari Aiuta il cuore Depura l'organismo Quindi Riapre quelle vie Anche capillari Che portano l'ossigeno E i nutrimenti Per esempio Al cervello Ecco Queste sono le proprietà Della bacca Che è appunto Questo mirtillo Che noi troviamo In un'area incontaminata Ne abbiamo imparlato spesso Abbiamo avuto anche L'onore di vedere Delle immagini Girate appunto Da voi Nel nord del Canada Dove appunto Cresce spontaneamente Questo frutto Sui nostri terreni È molto importante Per la nostra salute Però Dalla bacca Al preparato alimentare C'è tutto un processo Di trasformazione Ed è quello Che ci interessa Capire come avviene Perché Chiaramente È importante Anche sapere Da che cosa È composto Questo preparato alimentare Corretto E forse È importante Anche sapere Perché un preparato alimentare Visto che c'è la bacca C'è una bacca Mangiati quella Lei Io ho portato Il frutto fresco No È tornato L'ingegnere Rossi Stefano Dal Canada Nei nostri terreni Ha portato Un bel saccone Di questi Cranberry Selvatici E lei ha visto Che non è Un piacere enorme Mangiarli Sono stopposi Hanno i loro Proprio bisogna Amarlo profondamente Per accettare Quel tipo Di sapore E quella consistenza Io lo mangio Lo mangia Stefano Lo mangiano gli orsi Gli umani Lì I canadesi Lo trasformano In marmellate In torte In succhi Perché Perché Tutti quegli antiossidanti Di cui noi abbiamo Quotidianamente bisogno Li devo assumere In quantità Tale Da rendere L'assunzione Efficace Di mirtillo Ne dovrei mangiare Un bel po' Non ce la farei Quindi lo trasformo In un alimento Che sia In un preparato Alimentare No no In un alimento Che sia Accettabile Che sia digeribile Vuoi la torta Vuoi la marmellata Vuoi il succo Perdendo una montagna Delle proprietà E addizionando Molti zuccheri In una marmellata In una confettura In un succo Io aumento di molto La consistenza La presenza Di zuccheri In più Ho disponibile Questo frutto Per un mese All'anno Un mese e mezzo All'anno Io ho bisogno Tutti i giorni Di questi antiossidanti Ecco perché Si fa un preparato Alimentare Che però Richieda Come abbiamo visto Nelle slide Nelle precedenti Quattro condizioni Essenziali Uno Che la materia prima Venga Da un'area Assolutamente incontaminata È essenziale Barbara Perché se porto a casa Un mirtillo Che cresce di fianco All'autostrada O vicino A una discarica O vicino A un insediamento Produttivo Sto mangiando Veleno Quindi Mirtillo Non vuol dire niente Cranberry Selvatico Del Quebec Significa Qualità Delle materie prime E qualità Dell'ambiente In cui Questo è venuto Su spontaneamente Quindi la qualità Dell'acqua Dell'aria Della terra Del sole Il freddo Poi ho bisogno Della qualità Di processi Di trasformazione Noi abbiamo Un brevetto Noi spostiamo Quasi Il 100% Delle proprietà Del frutto In un preparato Alimentare Che a questo punto Mi è disponibile Nella giusta Quantità Quotidiana Nel tempo E qual è la giusta Quantità Quotidiana Un etto di mirtillo È stato dimostrato Come il radicchio In una prossima Trasmissione Voglio parlare Del radicchio Di Treviso Visto che io sono Di Treviso E che ha E parleremo di questa Strana combinazione Il cranberry Il gemello Del radicchio Di Treviso Di questo non avevamo mai parlato Lo faremo nella prossima puntata Però abbiamo ancora qualche minuto Per invece parlare Di un'altra sostanza Davvero molto importante Per la nostra salute Che è la curcumina Importantissima In abbinamento Lo voglio dire In abbinamento Molte telefonate Io ho comprato il cranberry Il vostro Usa Redberry Noi facciamo un prodotto Che si chiama Usa Redberry Un etto di mirtillo In ogni compressa Ogni compressa Corrisponde a un etto di mirtillo Quantità quotidiana Come antiossidante Depurativo Disintossicante Ringiovanente Importante Antiaderente Batterico Quella è la mia quantità Quotidiana Del cranberry La curcumina Non è un'alternativa Non va in contrapposizione È la seconda sostanza Che abbinata Al cranberry Mi rende Veramente forte Perché da una parte Mi sono ringiovanito Depurato E con una forte azione Di antiaderenza batterica Con la curcumina Ho la seconda fase Di protezione Quella Chiamiamola totale Perché porto All'interno del mio organismo E anche qui Ho 1300 studi Una cosa Immane Con la comprova Scientifica Non il test Scientificamente testato E cosa hanno detto? Che non funziona No Io voglio Non lo scientificamente testato Io voglio lo scientificamente comprovato E la curcumina È scientificamente comprovata Nella sua efficacia Nella sua azione Anti-infiammatoria Come un farmaco FANS Che ha distrutto lo stomaco Di miliardi di persone Ma è stato prescritto A tonnellate Davanti ad un'infiammazione Cosa può fare un medico? Deve prescrivere un FANS Un farmaco anti-infiammatorio Non steroideo So che ci sono gravi controindicazioni Ma te lo devo prescrivere E l'azienda farmaceutica Ha dovuto produrlo Davanti ad un'infiammazione Cosa faccio? Uso un anti-infiammatorio Ma la natura mi dà La curcumina Ha un'unica Tre difetti La curcumina Uno Il 90% che trova sul mercato È falsa Deriva dal petrolio Due Ha scarsa biodisponibilità Tre Costa una follia E quando uno Prende una pensione minima Un conto è che va in farmacia E con due lire di ticket Ti danno l'antinfiammatorio È un conto che debba tirare fuori I soldi per prendere Un anti-infiammatorio Ecco l'ingiustizia Che io trovo L'ingiustizia è che Chi può permetterse Usa la curcumina E chi non può permetterse Si spacca lo stomaco Con gli anti-infiammatori Di questo mi dispiace Ma Noi abbiamo portato Un livello di biodisponibilità tale La curcumina Che se Tre o quattro anni fa Mi piangeva il cuore Dover dire alle persone Tu devi assumere Tre grammi e mezzo Di curcumina Perché te ne entreranno Nell'organismo Forse 300 milligrammi Oggi Con i nostri sistemi Di trasformazione Abbiamo aumentato Di dieci volte La biodisponibilità E anche il costo È stato ridotto Di dieci volte Cioè Io non assumo più Io non ho più bisogno Di 100 euro al mese Per fare una Potente Un potente trattamento Anti-infiammatorio Perché Perché Avendo aumentato La biodisponibilità Io di questo Curcumiele Che noi Produciamo Del curcumiele Prendo La quantità Di un fagiolo Cannellino E ho la quantità Giornaliere Idonea Per avere Una straordinaria Azione Anti-infiammatoria Che è preventiva Sia anti-infiammatoria Sia anti-degenerativa Attenzione La curcumina È un cortison like Quindi È simile al cortisone Ma senza Le controindicazioni Certo Per onestà Nostra Professionale È bene dire Che quando I farmaci Vengono prescritti Sono naturalmente Importanti Ed è importante Che le persone Li assumano Qui stiamo parlando E lo ripetiamo Un'altra volta Di preparati alimentari Che ci consentono Di mantenerci in salute Ma Devono essere Diciamo così Assunti Per dei periodi lunghi O se non per sempre Diciamo Come beviamo Tutti i giorni l'acqua Come portiamo dentro Proteine e vitamine Ma non sono Né sostitutivi Né alternativi Assolutamente Anche se hanno Una validità pari A quella del farmaco Ma quando c'è Una prescrizione medica È assurdo Allontanare Un paziente Da una prescrizione medica Non me lo sentirete Dire mai No Evitiamo proprio Di andarci dal medico O di dover assumere Farmaci Con un'alimentazione quotidiana Che preveda Queste due sostanze Benissimo Allora Grazie a Gianpaolo Per essere stato con noi Torneremo la prossima volta Dunque a parlare Anche del radicchio trevigiano Volentierissimo Grazie per averci seguiti Arrivederci Grazie a tutti